dopo tre anni che sono qua alessandro ormai dai posso dire che mi trovo bene una città a misura d'uomo e poi per dai per la vita comunque di un calciatore o per la vita che conduco io comunque non amo molto andare in giro così va più che bene mi sto trovando molto bene mi sto trovando molto bene posti che giro abitando in centro quindi giro tanto su via san lorenzo corso roma quindi sto conoscendo ancora di più le persone veramente l'essere genuini di questa di questa gente come ho detto mi sto trovando bene nutro visto che c'è grande affetto nei miei confronti quindi è un'emozione bellissima poi sono amante della pasta sono amante del del buon mangiare e quindi mi sto trovando bene anche sotto questo aspetto mettere un chilo in più fa sempre bene e quando sono quale sandria e se devo scegliere un primo da mangiare tipico prendo gli agnolotti col sugo di ragù di stufato